Bello a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo video. Oggi siamo qua con il nuovo episodio del Faccio alla vostra squadra. Prima di iniziare vi invito come sempre a mandare nei commenti la vostra squadra. Il link me lo invierete sulla piattaforma viola domani in live perché con i link le faccio in live domani. Quindi ricordatevi lì che ovviamente per gli abbonati è garantito, le solite regole che vi faccio leggere sempre insomma come al solito con questa schermata qua. Quattrate tutte le regole che utilizzerò per il Faccio alle vostre squadre sulla piattaforma viola, cercate Insa. Mentre su questo canale dovrete semplicemente mandarmi nei commenti la vostra squadra attestualmente per iscritto. Prima di tutto analizzerò Gerson Martins e Marcos Gliorenti, ci avviciniamo anche alla fase dove le squadre le farò in compagnia di altri ragazzi. E poi adesso analizzerò alcune delle vostre squadre. Mi raccomando, ci vediamo domani in live sulla piattaforma viola. Ricordate che gli abbonati l'hai garantito e ora verso le 14.30 penso. Mentre per quanto riguarda questo canale, per quanto riguarda questo video, iniziamo da questo Gelson Martins. 5 skill, 3 di piede debole. È una carta non così male perché comunque ce la presentano con un SBC però costosina perché 184.000 crediti non è assolutamente da sottovalutare per un esterno magari non completissimo. Però in termini di velocità è fenomenale. Vabbè, non lo pigliate manco a bagaccia. Questo pigliamo il motorino e non lo vedete più. Questo scappa. Mentre a livello di dribbling, agilità, dribbling e equilibrio sono pazzeschi. Però il controllo, la reattività lo rendono un giocatore in game non propriamente completamente affidabile perché è talmente agile, dribbling, bla bla bla, che quando si gira non lo pigli, è un fulmine. Però quando gli arriva magari il pallone teso non lo stoppa bene, quando gli passa un pallone davanti si fa le gazzi sua. Insomma, è un po' così. Poi in termini di tiro non è un grande finalizzatore, è un giocatore comunque che sbaglia molto sotto porta. In termini di passaggio fa ogni tanto gol, ogni tanto no, fa il suo. Non è assurdo, ha 3 di piede debole. Insomma, è una carta che ogni tanto fa il suo, ogni tanto sbaglia. Non è ovviamente Cristiano Ronaldo. Poi in termini di passaggio, nello stretto se la cava bene. C'è pure un tiro a giro in realtà che non è proprio malissimo grazie all'effetto e tutto quanto. Però in particolare questa carta è forte e fenomenale per il dribbling e la sua corsa. Le statistiche tiro a passaggio invece lo rendono un giocatore normale. Quindi poi bisogna considerare quanto abbia senso. Ovviamente il link portoghese è validissimo, la carta non è assolutamente male. Il costo secondo me è leggermente sovrapprezzato. Quindi secondo me non è una must do a SBC, non è una SBC che dovete fare assolutamente. Però se lo fate non ci state neanche probabilmente perdendo i crediti perché è di atta pure. Non è che sia perfetto. E al momento non è che ci siano tutti questi esterni in Ligan. Quindi potrebbe essere un'alternativa utile anche grazie al link col Monaco. visto anche il Beyerdell che è uscito. Quindi può aver senso farlo se avete il link eccetera eccetera. Magari abbattete un po' il prezzo con dei giocatori. Ma nel contempo non è un giocatore definitivo per cui io personalmente spenderei 200k. Poi abbiamo Marcos Glioriente. 500k al momento di prezzo per un centrocampista di livello meta. Questo è un centrocampista assoluto. Come upgrade comunque ha ricevuto... non tantissimo perché comunque ha ricevuto giusto più 1, più 2 in alcune statistiche. Se poi andiamo a analizzare nello specifico la carta i più 1, i più 2 vanno a inficiare più che altro presentamente l'equilibrio perché poi in termini di tiro è uguale. L'evelocità è praticamente uguale. Nella difesa migliora più che altro nella scivolata, la forza fisica eccetera tutto abbastanza uguale. Migliorato molto nei cross e nell'effetto ma in particolare migliora nell'equilibrio che non è cosa da poco. Però secondo me questa carta al momento non giustifica 500k di differenza prezzo rispetto alla versione precedente. È indubbiamente fortissimo, c'è poco da constatare in questo senso, ma per me 500k al momento sono un prezzo spropositato per questo glioriente. Poi abbiamo la prima squadrettina che si presenta come una sorta di Serie A misto Kimbempe e Kanté, piazzati un po' lì così. Il ragazzo mi ha scritto nel suo commento che gioca con il 4-2-2-2 e usa anche 4-2-2-2 per l'intesa. Non capisco se si è sbagliato perché ovviamente Insigne e Kulusevski stanno esterni, se li mettiamo così, non fanno alcuna intesa. Io personalmente metterei a questo punto il 4-4-2 se proprio devi usare questo modulo per l'intesa, ma la realtà dei fatti è che non userei neanche questo. Cioè va bene, anche se li rimettiamo come li hai messi tu e mettiamo Kanté così eccetera eccetera, perderemo intesa su Kanté di brutto e altri giocatori. Invece se sfruttiamo Di Natale con il 4-3 ma più che altro è 4-3 secondo me, possiamo spostare Insigne qua in alto, ci mettiamo Tonali sopra, Kulusevski a destra, Di Natale lo mettiamo sotto per dare intesa ad Arnautovic ma anche a Kulibali e poi abbiamo Kimbempe e Hernandez che fanno intesa con Kanté che gioca a 8 e rimane comunque magari anche superiore che sia anche a 8. Però io qua farei dei cambi, nel senso che uno non vedo necessario questo Kimbempe, nel senso vabbè ok vogliamo Kanté allora lo teniamo. Potresti anche levare, dipende da te, potresti tenere Kulibali o qua potresti metterci Giorgio Chiellini o Cordoba o Marchinhos, ovviamente dipenderà dal budget che avrai perché ora come budget non c'hai soldi. Diciamo che qua potresti mettere Chiellini sicuramente perché è fortissimo e sarebbe perfetto per l'intesa di tutti. In alternativa nel tempo potresti puntare Cordoba oppure potresti mantenere Kulibali ma levare Kimbempe a quel punto e a questo punto levare anche Kanté e fare una full serie A mettendo che sì. Io Kimbempe non ne esco pazzo, ok di fianco a Kulibali è utilizzabilissimo però non mi fa proprio impazzire. E personalmente a me è piaciuto veramente tanto Giorgio Chiellini quindi io nel dubbio ti consiglierai di sbloccarlo, poi se non ti piace puoi rimettere Kulibali e tenere Chiellini oppure affiancare Kulibali e levare Kanté insomma poi gli sviluppi sono mille, tonali fortissimi, Kanté non vedo upgrade che possiamo fare nel breve. Per migliorare Arnautovic io onestamente lo leverei proprio e a questo punto lo sacrifichiamo Insigne spostandolo in una posizione off-cam tipo qua e qua sopra magari andiamo a mettere Rashford e poi ci inventiamo qualcosa oppure mettiamo Son e cambiamo Kanté insomma ci sono mille opzioni però ti serve budget per farlo. Diciamo che io nel breve personalmente manterrei la squadra un po' come ce l'hai, non sono un fan di Arnautovic, più che altro proverei Chiellini giusto per farmi un'idea se è un giocatore che potrebbe interessarti investirei sul testa di Chiellini poi se ti piace magari ma vuoi tenere Kulibali possiamo levare Kimbenpè, levare Kanté insomma poi vediamo una volta che l'hai provato quindi per ora testalo e se vi siete persi la review è uscita ieri. Seconda squadra, anche questa vedo già un bel Chiellini facile da inserire, lo inserrei ovunque in squadra legata a Serie A perché mi è piaciuto veramente tanto. Chesniporti, Kulibali, Delit, Quadrado, Carlos, Agi, Mané, Benzema, Dembele, Kanté, Bruno, Fernandez. Questa non mi è stato scritto il budget, l'altra se avevamo pochi crediti quindi ho suggerito solo Chiellini, questa invece non ne ho idea quindi ti do un po' di consigli generici. Innanzitutto ti dico che Delit a me piace, cioè l'avrei sbloccato anche io, l'avevo detto, non l'ho fatto però ci stava. Il motivo per cui secondo me però Delit è il discorso che l'avrei sbloccato in una visione futuristica per vedere se si upgradava con entrambe le robe e poi vedere com'era dopo. Per il momento per me sta bene in panchina e ci mettere Chiellini o puntare Cordoba. Quadrado va benissimo, Chesnip cercherà di puntare Leaf, Roberto Carlos non mi ha scritto che versione hai neanche per Agi, quindi Roberto in entrambe le versioni va bene, Agi dipende, Agi dipende perché non sono neanche tanto diverse le due versioni quindi potresti anche tenerle. Non un fan di Agi onestamente, non un fan di Agi. Ovviamente lo userai non lo so come, mi sembra che anche tu hai scritto che mantieni il 4-4-2 e quindi non so bene dove potresti usare un 4-4-2 perché io lo userei come trequartista in un 4-2-3-1 quindi prima un consiglio che ti do è metterlo trequartista. Come punta non mi fa impazzire, attacco un po' pesantino Agi Benzemai, nel contempo come esterno secondo me non è dove rende meglio. Cante Bruno è anche il mio centrocampo quindi nulla da dire a riguardo. Cercherei poi magari di mettere i miei crediti per puntare questo Dembele qua. Una volta fatto Chiellini è valutato se le varie Agi, poi se ti serve un trequartista puoi puntare Zola, se è vendibile, ma è maggiore al trotto da SBC. Se ti serve una punta, puoi puntare anche Daiglish, Baby, però insomma dipenderà anche dal budget e dagli sviluppi. Qua potresti puntare Cristiano Ronaldo che ci starebbe perfettamente e tanti tanti altri insomma. Poi abbiamo questa, qua abbiamo un budget, abbiamo 300.000 crediti di budget, abbiamo Giori Importa, Akimi, Kimbenpe, Varane, Hernandez, Nkunku, Fekir, Kanté, Beyerder, Dembele e Bamba. Ora l'unica versione specificata che c'era nel messaggio erano quelle di Nkunku di Fekir, Kimbenpe che era non scambiabile. Abbiamo Bamba che in questa versione secondo me non è niente di che, quindi io ti direi di mettere l'altra versione che con Cento Campo la appia abbastanza facilmente. Beyerder è un giocatore che ancora fa il suo affiancato a Fekir, non mi fa però infazzire, nel senso che comunque il Cento Campo è validissimo, la difesa va benissimo. Io mi concentrerei su migliorare Beyerder e Dembele. Ora gli sviluppi sono molteplici, ovviamente potresti puntare Beyerder, la nuova versione, però ha il suo costo. Potresti puntare anche Ciccio Benzina, non questo ovviamente, non l'altro, sbagliato. Intendevo due gacchie, sta il flashback, eccolo qua, o Benzema flashback, Beyerder, vabbè costa troppo quell'altra versione, è impensabile, scherzavo. Questo De Freda andrebbe provato a vedere com'è perché potrebbe essere interessante, però per adesso ti direi di farti Ciccio Benzina che secondo me è molto interessante e poi valutare l'upgrade di Dembele e vedere un po' anche che cartescono. Inizierei magari da lui. E poi abbiamo Meignan e Dabamba. Meignan, Diop, Diop per me è solo per il meme del pacchetto cercando Diopi, Kounde, Kappa, Walker, Bruno, Llorente, Casemiro, Asensio, Iago Aspas e Rashford. Allora questa è una squadra off meta completamente, dal punto di vista se ti divertono non c'è molto a dire. Allora, tu l'hai messi, mi dati di mettere 4-3-3 per l'intesa, secondo me questo è il primo errore, ora non so se hai sbagliato nello scrivere, però secondo me 4-3-3 non va bene, 4-3-3-3 sì, così almeno Diopi va intesa e tutto quanto va intesa. Potresti scambiare Casemiro, Llorente, oppure lasciare così, no, meglio lasciare così, immagino tu l'avessi così ma hai sbagliato a scrivere, insomma. Comunque partiamo dalla difesa, questo Diop secondo me lascia un po' lo spazio che trova, là potremmo mettere potenzialmente Varane, tu di budget hai solo 200k, quindi onestamente sì, ci investirei anche, con Deo non è che mi faccia proprio impazzire pure lui, là quelle d'Armilitao mi farebbe uscire pazzo da quante forte, se no alternativamente dovremmo trovare qualcun altro da Ligan, potresti valutare Diego Carlos, volendo a questo punto dovremmo magari rilevare qua il portiere, magari mettere Ederson, e già secondo me così la difesa diventa di un altro livello. Ora, anche quel Walker, non lo so, Kappa è con il piede destro, Walker è destro, non so, non c'è un'altra opzione lì, magari andare su Reguillon se riesci, oppure su anche Cornea, anche se fisicamente è un po' scrauso, Reguillon però pure mi sa che è abbastanza scrauso sul fisico, sì 68. Ora, non so fisicamente chi sia meglio dei due, io sto usando un po' Cornea e mi ci trovo, potresti anche mettere Cancelo che pure non è malissimo, e sicuramente è molto meglio che avere Walker fuori intesa di piede. Poi Rashford-Bruno ci posso anche stare, Iago Aspas non mi fa impazzire, Casemiro pure non mi fa proprio impazzire, questi due non è che li vedo benissimo, diciamo che qua in alto sarebbe buono quel Pareco, però questo Pareco andava sbloccato, quindi immagino che tu non l'abbia fatto, se no l'avresti comunque nella squadra. In termini di certo campo potresti valutare Guardiola, ma ti servirebbero più crediti, ma questo Guardiola veramente ci starebbe di Dio in questa squadra, quindi magari potresti considerarlo in un futuro al posto di Casemiro che almeno è più veloce, dà più una mano offensiva. Poi in termini offensivi, anche qua ciccio benzina sarebbe perfetto, perché a questo prezzo non troverete mai più un attaccante del genere in Liga, secondo me, quindi se ti riesci a fare questo ciccio benzina, io ti direi di investire su Diego Carlos come primo investimento e come secondo benzina, che magari ha fatto qualche credito nel frattempo e con 300k ti porti a casa entrambi, soprattutto se hai roba nel club da buttare. Poi pensare a levare Walker magari con un Cancelo, un Regigliano, un Cornetto e poi pensare a Guardiola per Casemiro o comunque un altro centrocampista mediano. Se vuoi giocare a tre centrocampisti, però io leggo che giochi con in 4-2-3-1, quindi io personalmente a questo punto punterei, non so, Cantè per Bruno Fernandes, in alto al posto di Rashford metterei, potresti fare anche così, perché se giochi con quell'altro modulo continuerai a lasciare magari Casemiro così. Nel tempo questo, dico, punterei Cantè e Bamba, che sarebbe molto meglio, però ovviamente diventano veramente tanti cambi, quindi a questo punto ti direi di fare un attimo con calma una cosa alla volta, però ti dato un po' di sviluppi. Poi abbiamo Alisson, Varane, Van Dijk, Walker, Van Dijk, Robertson, Pogba, Bruno Fernandes, De Bruyne, Sar, Martial e Sterling. 100.000 crediti budget, non tanto, ma giochi con lo stesso modulo. Io qua invece ti direi, sicuramente levare Robertson appena possibile, però prima di tutto investirei sulle varie quel Martial che usato come punta non va bene, io lo uso ancora un po' come COD arrancando, ma come punta non ce la posso fare, cioè piuttosto metterei Sonoff intesa, cioè personalmente 100k più Martial, Son costa 40, ormai metterei Sonoff intesa che come attaccante vola, che è una meraviglia. Poi al centrocampo però dovresti cercare di levare uno di questi, io ti direi Pogba perché hai bisogno di qualcuno che faccia la fase difensiva. Ora, Cantè costa un filo troppo magari per te, Rai se non mi fa impazzire. Diciamo che tra le opzioni che abbiamo in attesa di Cantè, probabilmente ti metterai Onieka e poi punterei a Cantè, insomma, a meno che ti ci trovi talmente bene che puoi prediligere e rimanere con questo. Quindi ragazzi siamo arrivati alla fine di questo episodio, spero vi sia piaciuto, noi ci vediamo nel prossimo video, ci vediamo domani sulla piattaforma viola e niente, fatemi sapere cosa pensate, ci vediamo nel prossimo video, bello a tutti!